Bella raga qua è Savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Ogni volta come ben sapete quando esce un DLC Rockstar mette dei outfit, dei vestiti nascosti Quindi ragazzi andiamo a sbloccare queste nuove felpe che sono nascoste Quindi interaggiamo con la parte alta degli outfit e andiamo a cercarci lo slot felpe ragazzi Fatemi sapere se funziona anche per la femmina perché io non ho provato sinceramente raga Fatemi sapere qua nei commenti Intanto vi invito anche a lasciare un like che è importantissimo per far crescere il canale A questo punto una volta che siamo su felpe mettiamo felpa larga nera la numero 3 ragazzi Se avete il casco, gli occhiali e la roba in testa levate tutto Quindi una volta che avete levato tutto e avete la testa bella pulita, limpida, senza niente ad osso Andiamo sullo stile e tiriamo su il cappuccio della felpa Una volta che abbiamo tirato su il cappuccio della felpa raga abbiamo fatto il glitch Ciò perché noi adesso cosa facciamo? Dobbiamo rinteragire con il vestiario e andiamo a cercarci parti speciali Ok? Lo slot dove c'è scritto speciali Una volta che abbiamo trovato quello slot lo clicchiamo e al suo interno raga ci saranno altre categorie Quindi partiamo dalla seconda dove ci sono praticamente le stelline raga Andiamo su Marche e sbada bam Appena clicchiamo su Marche guardate che compaiono delle felpe raga Che normalmente non ci sono e lo riconoscete perché hanno la stellina a costo zero ragazzi Ci sono tutte le categorie con le stelline, tutte felpe diverse Sono una figata, sono bellissime ragazzi Approfittatene che con questo glitch, con questo metodo non le pagherete Perché molto probabilmente le metteranno più avanti con le uscite dei vari aggiornamenti Ma noi in questa maniera recuperiamo tutto subito Quindi ragazzi queste sono le felpe Guardate che bomba Vi invito a lasciare un like che è importantissimo A commentare e a supportare questo canale ragazzi Se vi servono account modati con cifre esorbitanti come 7 miliardi ragazzi La fast run per PG maschio o PG femmina Da trasferire su PS5 o Xbox serie X o giocate su Xbox One Non esitate a contattarmi In questo periodo i prezzi sono veramente stracciati raga Quindi non aspettate Mi raccomando raga Ogni volta che andrete poi a comprare Le maglie di una categoria Dovrete rimettervi la felpa nera Perché se no non ve le da sbloccate Quindi ragazzi che dire Lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale E alla prossima Bella raga Sbagliata Sbagliata Grazie a tutti